Sabato prossimo Udine ospiterà una grande manifestazione antirazzista a livello regionale promossa dalla Rete d'Asi, dal centro Balducci di Zuliano. Donna di piazza, perché questa decisione di scendere in piazza? Prima di tutto per ribadire le convinzioni fondamentali riguardo alla nostra società, riguardo all'Europa, riguardo a tutto il pianeta. Cioè quello di mettere sempre, comunque, al primo posto le persone, che non sembri una dichiarazione vaga, perché così sta scritto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, così sta scritto nella nostra Costituzione, così sta scritto nella Carta dei Diritti dell'Unione Europea e quindi questo ribadire con una presenza questi principi fondamentali lo riteniamo molto, molto importante in questo momento. Noi vorremmo partire dal proporre al positivo, vorremmo ribadire come sia importante costruire giorno per giorno una società senza pregiudizi, senza avversione, senza odio. Non concordiamo con queste scelte politiche, istituzionali, a livello nazionale, con quelle della nostra regione e purtroppo anche con diverse amministrazioni locali che magari per timore anche delle reazioni dei cittadini seguono questa strada che non condividiamo. Certamente le paure vanno tenute in considerazione. Per quanto riguarda anche le soluzioni che stanno venendo messe in campo, proprio per l'accoglienza di questi richiedenti asilo, manca forse qualche coordinamento superiore, per esempio sulla fronte accoglienza diffusa, come era stato utilizzato questo modello in passato, ora nessuno pare più crederci. Sì, questo purtroppo fa parte di questi chiamati decreti sicurezza che hanno colpito in modo veramente grave, gravissimo l'accoglienza diffusa che noi ribadiremo anche nella manifestazione del 26, perché concentrare, come è avvenuto alla Cavarzerani per tutti questi anni, centinaia di persone, poi con l'aggravante attuale che diffonde di nuovo paura che si possa creare un contagio tra le persone stesse, questo non è umano. Ecco, questo non è accettabile. Come non è accettabile che andrebbe chiuso oggi, adesso, il CPR di Gradisca, dove fra l'altro negli ultimi sei mesi sono morte due persone, che si può creare un'acqua, dove fra l'altro negli ultimi sei mesi sono morte due persone,